Sì, io guarda, sono velocissima perché in realtà come tutte e tutti voi avevo un'ampia scelta di temi, di possibilità, di angolature per affrontare questa giornata e per portare una mia testimonianza oggi. Ho scelto l'ultima per due motivi, uno perché è un tema che racchiude molto di quello che abbiamo detto fino adesso ed è anche un tema molto politico perché poi alla fine questo è quello che è emerso in tantissimi interventi. Poi noi facciamo anche politica oltre a tutte le cose che facciamo, visto che le donne fanno un sacco di cose e quindi questo mi sembra l'esempio migliore. Ed è anche una cosa che nonostante sia l'endesimo tassello e non sia diverso da quello che ci siamo raccontati oggi, è stato per me un po' tipo la goccia che fa traboccare il vaso. Allora io vengo da Torino, si sente benissimo anche per chi non mi conosce e in questo momento in Piemonte abbiamo un problema che si chiama lezioni d'amore. Sembra un romanzo Harmony e invece questa roba è il progetto di educazione sentimentale che il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato e ha dato il patrocinio. Ricordiamo il Consiglio regionale non solo a maggioranza PD ma addirittura proposta questa cosa da uno dei consiglieri del PD. Qual è il problema? A parte il titolo ridicolo, la paginetta di presentazione del progetto non è particolarmente esaustiva e quindi abbiamo dovuto andare a capire qual era il problema di questa cosa. Innanzitutto il promotore, quello che si occupa di questo progetto, Paolo Ercolani, ha rilasciato una serie di interviste e una serie di dichiarazioni di presentazione nel suo progetto che io definisco agghiaccianti senza avere paura di essere esagerata. Ve ne leggo qualcuna perché questi sono virgolettati reali. Gli hanno chiesto, comunque è stato sollevato il dubbio del perché fosse solo una educazione sentimentale e lui ha risposto che l'educazione sessuale nelle scuole non avrebbe neanche molto senso. Probabilmente sono i ragazzi che potrebbero insegnare a noi la meccanica del sesso. Quello lo imparano da soli. Cioè questa roba è un disastro su tutta la linea e non lo voglio insegnare a voi perché è auto-evidente. Cito solo un esempio al di là del rispetto del corpo femminile che vediamo distrutto e negato ogni momento ma pensiamo anche al silenzio tombale che è calato sulle malattie sessualmente trasmissibili dopo il picco di interesse dei decenni passati continuano ad aumentare le persone che contraggono le malattie e invece la prevenzione, l'informazione e tutto quello che ruota intorno sta calando a parte quella delle associazioni solitamente associazioni LGBT e pochi altri. Ha continuato Paolo Ercolani dicendo che il suo progetto serve visto che i ragazzi non sanno più corteggiare e le ragazze non riescono a dare segnali chiari. Vedo che alcuni di voi non la conoscevano e fanno le stesse facce che abbiamo fatto noi. Quindi intanto cominciate a prendervi la vostra responsabilità, date segnali non chiari, sono tutti fatti vostri. In più questi poveretti dementi che non sanno corteggiare e di conseguenza escono grugnendo per le strade con la clava... rendetevi conto io se fosse un uomo sarei incazzata come una iena a pensare che qualcuno mi deve insegnare a corteggiare. Cioè io vorrei imparare, voglio imparare come donna, voglio imparare come uomo ma insomma non in questa maniera qui. Andando avanti perché non bastava questa roba qui, il femminismo estremista, che già è un bel concetto, il femminismo estremista, è vero che ci sono molti femministi, femminismi, è vero che insomma non tutti i femminismi vanno esattamente d'accordo però lui comunque ci mette il femminismo estremista che è culminato nella teoria del gender dove è antivirus, cioè tiriamo fuori le fake news, le bufale, la teoria del gender è una roba che non si dovrebbe più sentire né culturalmente né accademicamente né filosoficamente, è una cosa che non esiste. E comunque questa teoria del gender, tanto per essere chiari, cosa ha fatto? Ha legittimato la turba psichica di chi ritiene di poter scegliere la propria appartenenza sessuale. Legittima ma pur sempre turba. Ce l'abbiamo appena cancellata dalla lista delle patologie e qui invece ce la rimettiamo perché insomma abbiamo le turbe psichiche. Dopodiché perché non dare un bel colpo anche al Me Too e a quella volta che è e alle attrici che già in quanto attrici comunque qualche cosa che non vanno devono averlo, retaggio di secoli passati. Quindi Asia Argento e le attrici che hanno denunciato non hanno la volontà o la capacità di distinguere fra avance, abusi e violenza affettiva. Cioè non se ne rendono loro. E comunque alla fine hanno denunciato con, e qui scandisco, colpevole e ipocrita ritardo. E quindi comunque le denunce non sono valide. Allora questo è quello che viene portato, viene proposto alle scuole del Piemonte. Come abbiamo visto non c'è niente che si allarga come le cattive idee, l'abbiamo visto con le emozioni di Verona quindi io voglio raccontarlo anche a chi non è del Piemonte a parte per il valore universale di questa roba qua ma perché bisogna fare attenzione. Abbiamo fatto a Torino due assemblee lanciate e promosse da non una di meno Torino che con una tempestività straordinaria è riuscita a mobilitare ieri in settimana alle 15.30 un presidio sotto il Consiglio regionale del Piemonte e stiamo attivando, si stanno attivando con le reti, i gruppi studenteschi, le associazioni LGBT noi anche ci siamo attivati avvertendo i presidi, avvertendo gli insegnanti, avvertendo gli studenti perché poi la cosa tragica che io ho ricordato a una delle due assemblee torinesi è che noi contiamo, cioè noi speriamo e abbiamo anche un po' il recondito pensiero che questa roba arriva sul tavolo di un professore e questo giustamente la prende la straccia e se va bene scrive anche un articolo, un post, un'invettiva dicendo che non ne vuole mai più vedere. Quello che mi spaventa però invece è quelli che lo vedono e lo trovano un'ottima idea o perché non capiscono o perché capiscono fin troppo bene perché giustamente diceva Giulia una cosa verissima che gli alleati, cioè non basta più essere alleati però c'è anche un sacco di gente che noi magari ci aspettiamo che sia alleata e invece te la ritrovi contro. Quindi questa cosa va combattuta ovviamente da un punto di vista culturale offrendo alternative ma le alternative già ci sono noi abbiamo, c'è Gianmarco che interverrà dopo di me noi abbiamo lavorato tantissimo con Scosse per esempio che è un'associazione che ha lavorato tantissimo sull'educazione affettiva e sessuale educazione alle differenze, altro che turbe psichiche però questa roba qui va anche fermata prima che possa fare danni e va fermata anche a livello politico bisogna fare mobilitazione, bisogna fare dove abbiamo amministratori se non li abbiamo dobbiamo trovarli, dobbiamo crescere, dobbiamo leggerne di più in modo che quando queste cose arrivano le fermino sul nascere perché è un rischio che non possiamo correre. Io mi scuso sono molto incazzata su questa cosa qui e spero che siate incazzati tutti quanti.